Il nostro modo di essere al 10, un modo di comportarsi, non solo perché abbiamo il cappello con la penna nera in testa, ma perché è una regola che ci sono le storie messe, dai nostri metti, con un intervarsi le mani, prendere una mano a chi ha bisogno, questa parola viene avanti, ma noi dobbiamo portarla avanti, l'indiana, i vestiti sezionali, internazionali, biglietti sul territorio italiano, su strade sicure, ed ecco allora questo libro verde della solidarietà. So di noi vogliamo oggi celebrare... Grazie a tutti! 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 Viva l'Auto! Viva Usta! 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 Viva Usta!